Enjoy, fia! Siamo caduti dal letto per venire a fare il servizio che potrei definire stupefacente, sì, l'aggettivo esatto. Enjoy, fia! Andiamo a vedere di cosa si tratta. Allora, ci troviamo qui al Cannabis Store Amsterdam, nella sede di Via Tuscolana 463B. Al mio fianco uno dei soci titolari, Roberto. Roberto, raccontaci questa avventura, visto che oggi è l'inaugurazione di questo punto vendita. Allora, è iniziato tutto per gioco. Abbiamo visto sui giornali che cominciamo questa avventura e ci siamo buttati io e Stefano, mio cugino, mio socio. Abbiamo visto chiamato e ci è piaciuto tutto quanto, come ci hanno presentato il franchising, come funzionava e abbiamo deciso di aprirlo. Abbiamo aperto ieri, mercoledì, scusa, mercoledì, quattore, San Valentino e oggi abbiamo deciso di fare l'inaugurazione. Stiamo vedendo che la gente risponde molto bene a questo tipo di articoli. Come si può pensare? Risponde col sorriso proprio stampato sul viso. Sì, perché non dico che era il mio sogno, però quasi, quasi. Ovviamente diciamo che è una cosa stralegale. Assolutamente legale rispetto a tutte quante le norme italiane della legge. THC è sotto lo 0,6%. Abbiamo il CBD alto. Diciamo cos'è il THC per i profani? Il tetracannabinoide, che sarebbe l'effetto psicotropo della pianta. Regolamentato lo stadio italiano è lo 0,2%, massimo 0,6%. Noi rispettiamo tutti questi limiti imposti. Il prodotto è tutto quanto fatto, il prodotto è ad Amsterdam e noi portiamo con il nostro franchising. Noi abbiamo varie cose. Scusa che ti interrompo, è proprio di questo periodo la legge per usare la cannabis per scopi terapeutici. Esatto, rientriamo proprio in quella linea. Oltre le infiorescenze che abbiamo qui, noi abbiamo... Sarebbero queste, è vero? Le infiorescenze? Esatto. Queste te le puoi proprio fumare, a classica canna. Sono souvenir, noi vendiamo come studio tecnico. Ah, è vero. Però ognuno può fare il tecnico a casa, diciamo, e vedere come funziona. Oltre ad avere le infiorescenze abbiamo tutta una serie di altri prodotti che passiamo... Una sorta proprio dei merchandising che parte dall'abbigliamento, cappelletti, magliette, borze, zaini... Uomo, magliette, felpe... Oltre a questa abbiamo anche una linea food, molto importante. Abbiamo per esempio le bibite, che vediamo qui. Abbiamo una birra aromatizzata alla cannabis e il vino, che è un bianco, una falanghina e il rosso, un aglianico. Poi i drink energizzanti e il tè verde, sempre tutto quanto aromatizzato alla cannabis. Abbiamo il reparto food, quindi biscotteria... Scotti, lecca-lecche, caramelle, tutto quello che riguarda il food. Ci sono caramelle gommose, ricche di CBD, tutto questo contiene il CBD, che è la parte buona della pianta. Rilassa molto e quello che va tantissimo ad oggi sono le tisane e i tè. Addirittura c'è anche cioccolata alla cannabis. Cioccolata alla cannabis, nocciola, nero, latte, cioccolato bianco. E poi abbiamo gli accessori, diciamo, tecnici, dove i vari tritini accendono i clipper da collezione, i blunt, che sono praticamente cartine di tabacco da riempire. Io già non sono normale del mio. Mi sono preso adesso un caffè alla cannabis, ma a me mi ha fatto l'effetto contrario, mi ha fatto tornare normale. Esatto, perché rilassa, rilassa anche questo e è molto buono. Roberto, vedo altre cose qua, non riesco a capire... Sì, diciamo che qui abbiamo anche, oltre alle infiorescenze, abbiamo il liquido per le sigarette, quelle elettroniche, che va anche quello con tantissimo. Poi abbiamo, diciamo, per uso sempre tecnico, lo sciroppo al CBD, che è quello che cura la tosse, l'infiammazione alle via aeree, tutto quanto. Quello è molto buono. E qui torniamo a quello che avevo detto precedentemente, alla cannabis e terapeutica, no? Esatto, prendiamo anche questa branchia. Poi ci sono i cristalli di CBD, che sono puri al 99%. Cristalli di? CBD. Sarebbero, scusa, ignoranza? Sempre cannabinoidi, la proprietà sempre buona della pianta. Quelli sono pure al 99%. E quelli vanno benissimo per i malanni, cioè per le infiammazioni, rilassano tantissimo. Quali sarebbero, scusa, ci fai vedere, Robè? E come vanno usati? Vanno ingeriti o messi sotto la lingua. Facciamo vedere. Una polverina va messa sotto la lingua, oppure per fare un effetto migliore, messo nel mangiare. Fare delle torte con i grassi prende più effetto. Oppure abbiamo l'olio, anche esso può essere ingerito. Vediamo. E ha l'effetto rilassante. Ho visto una cosa e poi chiudiamo. Sbaglio o sono sigarette quelle? Sì, questa è una sigaretta, abbiamo anche la sigaretta elettronica, usa e getta. 600 tiri, senza ricaricare né di liquido né di batteria. 10% di CBD, molto rilassante e gusto di cana, ma fa di erba. E poi abbiamo l'abbigliamento, no? Certo, abbiamo l'abbigliamento. Senta dei merchandising. Esatto, come puoi vedere, tutte quante magliette, felpe, i nostri giubini, tutto quanto a marchio Cannabis Store, con il nostro logo. Più c'è il reparto donna con varie borzette molto carine e i zaini per i ragazzi. Roberto, i giorni d'apertura dello store? Sono da lunedì al sabato, stiamo vedendo anche per la domenica, mezza giornata, e facciamo dalle 10 di mattina alle 21. Tutti con il radio continuato. La nostra pagina Facebook è Cannabis Store Hamster da Roma Tuscolana. Per chi volesse informazioni in linea telefonica? Allora, scusate, non lo ricordo a memoria perché l'abbiamo visto adesso, il numero è 0645 596404. Potete chiamarci tranquillamente e vi informeremo su tutto quanto, quello che concerne il nostro negozio. Robè, solo ora mi accorgo che evidentemente il caffè alla Cannabis ha fatto il suo giusto effetto. Rilassa molto. Ho messo il logo al contrario. Succede? Succede anche questo qui a Cannabis Store. da Cannabis Store Amsterdam qui in via Tuscolana 463, bici è veramente tutto. Grazie Roberto e in bocca al lupo. Massimo, crepi il lupo, vi aspettiamo in tanti. Bella frate. Vivi in Roma tu lo sai, sempre meglio tu ci dai, sulle mani come me, tutti insieme frate, yeah, yeah, a frappe, a frappe, a frappe, c'è qualcuno che fa yeah, è Massimo Marino. Grazie a tutti.